Attenzione, è vietato attraversare i binari, servirsi del sottotasso. Il treno regionale 24-7-7, proveniente da più vicino l'aeroporto, è diretto a Parasalina, delle ore 10.23, è l'arrivo ordinario 4. Il treno regionale 24, ferma in tutte le stazioni. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianca. Attenzione, rinunciarsi dal binario, allontanarsi dalla linea gianca. Ogni, ritmo, anglapposita E' un'altra linea gianca. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.